Bene, io oggi sono felice, sono molto, molto, molto felice, perché diceva mia signore che ho detto questo, io l'ho chiesto e l'ho trovato, perciò signore io ho fatto un piccolo appunto per vedere un po' magari di non emozionarmi tra l'altro. Allora, al mio signore Gesù, signore, vengo a te con tutti i miei peccati, ti ho cercato e ti ho trovato, perché prima non avevo la necessità di sentirti vicino a me, perché non conoscevo la tua parola, ma andavo dietro alle foglie degli uomini, ma grazie a te che mi hai messo sulla mia strada il combiando fratello in fede, Paolo Corcelli, che non ha fatto altro che dirmi di leggere la parola di Dio. È così che ti ho conosciuto, veramente, e ti ringrazio di avermi fatto frequentare la chiesa e i fratelli in fede, tutti voi, che mi avete accettato così come sono, anche se qualche volta magari ho mancato, non so, vorrei mancare qualche qualcosa, ma però penso molto piccola, non molto piccola, non molto piccola, solo e ti ringrazio di avermi fatto la chiesa Maranata, perciò vengo a te così come sono e ti chiedo di entrare nel mio cuore e di purificarlo con il tuo sangue prezioso che hai versato sulla croce del vento, ti ringrazio di avermi fatto capire la necessità di nascere di nuovo, di nuovo a vita, da questo momento in poi con il tuo aiuto voglio seguirti come la tua parola mi insegna, tu mi darai la forza, la capacità di farlo anche nelle avversità, in questo giorno di gioia e innalzo un canto l'amore a te Gesù e la voto è mia al nostro Signore di Dio. Amen. Caro fratello Roberto, ti chiediamo perché vuoi essere battezzato? Ti ho riconosciuto il Signore mio Gesù Cristo come il mio unico Salvatore. E noi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ti battezziamo. Salvatore, del Figlio e di Dio. Io non merito e mi riscanto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.